Vado a finire partite! Oh vecchio, sei morto! la torcia cosa pensi che sia no ma non è che devi fare scubidu b tu sei cappa o vuoi dire no ma non è che cosa pensi che Sì occhio che cazzo è non lo taglio bloccatelo fermatelo tranquillante PORCO DIOS! Sti con i soldi! AGLIO! 2, prima metà 2! Via! 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 Passa! Mi sono rotto VINCA! Guardate il portiere Down con la sindrome incurabile purtroppo. Guardate, guardate i movimenti da scemmiare! Non tanto da scemmiare ma dai! ... ... ... ... ... ... ... ... no, lo faccio le faccio le faccio le devo filmare lo so, fatti anche, giralo e fatti anche delle facce brutte ogni tanto ma sto già registrando, sto zitto so, capito dai così la terremoto, rega la terremoto, scossa cosa fai Polly? Polly fai video Polly stop e perdono fai video cazzone Polly è lì, lì Cosmo, dove sei? Cosmo no dai, esci un attimo no ma sei down mi dà più vero io cazzo il gioco Cosmo, basta per due sassi per due sassi per due sassi per due sassi più ti meno questa volta sei fortunato se non ti ammazzo e i sassi nooo no 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Oh Pronti? Prima di fare il salto Sai che è la prima volta che ti becco E' la prima volta che ti becco Cosa qui? Voi divisi Shaghi A un certo punto poi li sbuccherà Dagli la bici Fausto Dagli la bici Sono marcato, sto per cegare Osto, potrò che Due, uno, via Grazie Grazie Grazie